E' lei eh? E' lei? No, devi cancellare le nuvole. E' lui. Lui diventa... Lei! E' lei? Come facevi a sapere? E' che sto diventando troppo intelligente, dammi quel cellulare! Scherzo al guardiano. Io non lo farei. Vediamo. No! No, vabbè. No, ha disegnato. No, gli ha fatto la pancia. Cosa farà? No, si allazza le scarpe. Si allazza le scarpe. E perché tu lo sapevi già? Perché è pieno di sti viso. Ragazzi, siamo Remy e Molly. E Molly è ancora addormentato, ragazzi. È il terzo video della mattinata e lui già dorme di nuovo. Si è svegliato da un'ora neanche, però già vuole tornare a dormire. Avete voi provato a mettere un dito mentre uno sbadiglia? Non si fa. Non si fa. Allora, silenzio. Non c'è più tempo da perdere. Allarme rosso! Molly ha perso il cervello! Il cervello. Avete visto il cervello? Da qualche parte? Non lo trovo. Perché oggi... Non avevamo modo più che lo trovo. No, 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 no. Il tuo. Eh, sì. Perché dobbiamo ingrandire il nostro cervello, perché è piccolo. Quello della Reby più o meno è così. Posso dire una... Almeno il mio c'è. Comunque, posso dire una cosa? Io ingrandirei il cervello anche di questo gioco, perché brilla il fiore. Brilla il fiore. Cioè, brilla il fiore. Queste sono le indicazioni del gioco. Ah, che italiano. Allora, quindi, brilla il fiore. Secondo me c'è il sole qua dietro. No, che carino! Bisogna cancellare. Ecco! Bello, bello. No, ma va, Reby, l'hai scoperto adesso. Buongiorno! Ho scoperto il fiore. Il sole. No, 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 no. Let's go! Andiamo! Oh, no! Il signor Banana prepara la banana fresca. Eh, la banana fresca, perché lui invece non è più fresco. È invecchiato, poverino. Infatti è un po' passato. È invecchiata questa banana appassita. No, eccola, dobbiamo pulirla. È solo sporco, in realtà. È solo sporco. Ok, dai, pulisci bene. Così, vai! Sì! Eccola qua! È il bastone! Ma come è il bastone? Oh no, ancora il bastone. Ma che è rimasto il bastone? No, vabbè, dai. Andiamo avanti. Cosa sta nascondendo? Cosa sta nascondendo? Un sacco di addominali. Da tartaruga. Secondo me è dei cubetti di ghiaccio, eh. Dei cubetti di ghiaccio? Dici? Vediamo. Secondo me ho una tartaruga. Attenzione. Cos'è? Il pare, la vallette! No, vabbè, dai. Facile così, eh. Comunque tocca a me. Il mio cervello sta crescendo. Allora. Di cosa è arrabbiata? Di cosa è arrabbiata? Vediamo un po'. Ma no, sta pulendo! Ma sta pulendo! Ma dai, ragazzi! Ma cosa sta succedendo qua? Vabbè, gli ha fatto uno scherzo. Sei innamorato della scopa. Vabbè, no, sei innamorato della vasca. E fa la vasca da solo. Ok, vediamo un po'. C'è una sposa e uno sposo. Chi tradisce? Però, ma perché devono per forza tradire? Ma si è scritto là sopra. Ah, scusa. Non avevo letto. Secondo me c'è qualcosa dentro l'armadio. Vediamo un po'. No. No, invece. Lei, guarda, forse ha qualcosa sotto. Ha le scarpe rosse. No. No. Dai, uno sconderò sotto il vestito. Lo sapevo. Lo sapevo. Tocca a me. Si è arrabbiato. Eh, giustamente. Giustamente si è arrabbiato. Uh, che cosa so? C'è male. C'è male. Ma è il castoro. Io non sono un rosicone. Ma male. Chi è il vincitore? Te l'ho detto. Perché la risposta più ovvia non è mai quella. Guarda. Bravo il signor Castoro. Il signor Castoro ha fatto una statua bellissima di una donna. È vero. Con i denti. Bello, bello. Ci piace. Next. Pulisci la maglietta. Pulisci la maglietta? Di pomodoro? È ketchup quello. È ketchup, ti sembra? Anche a me sembra ketchup. Allora. Allora, puliamo, puliamo, puliamo. Bravo Molly. Meglio di una lavatrice sono. Solo nei giochi Molly pulisce qualcosa. Non è vero. Non è vero. Basta. No, ho giocato una volta. Due volte ho giocato. Cosa ho detto? Non diciamo queste cose che non sono vere. Allora, attenzione. Evoca il genio. Il genio della lampada. Siamo alla Dino. La lampada di allo Dino. Il genio, il genio, il genio. Eccolo. Allora. Genio, genio dei miei desideri. In realtà era specchio, specchio dei miei. Vabbè, è lo stesso. Potresti fare sparire Molly. È successo veramente. Però, genietto, genietto mi scusi. Ora dovrebbe tornare Molly a giocare qui con noi. Beh, si sta bene in che senso di Molly in realtà. Però no. Dai, facciamolo tornare. Oh, sei tornato. Vabbè. Non lo fare mai più. Tocca a me. Ti piacerebbe che toccassi a te. Smetti di sputtacchiarmi. Allora, Molly. Io sono un lama. Che è un lama. Lui non parla. Lui sputa per dirci le cose. Allora, andiamo. Aventi. Vediamo un po'. Riempi la crepa. No. Ma come? Ma io sapevo che si cancellasse con la gomma. Non si riempiscono di nuovo. Magari con la gomma. Dai, dammi. Bello, bello però. Ci è piaciuto. Bello, bello. Ci è piaciuto. Tocca a me, ok. Comunque io ho giocato solo due buoni. Livello 10. Oh. Una nuova gomma. Una nuova gomma. Bella. E adesso? Scherzo al guardiano. Io non lo farei. Vediamo. Cosa bisogna fare? Non cancellerei le righe. Le righe? No. No, vabbè. No, ha disegnato. No, gli ha fatto la pancia. Certo. Bello, bello. Bello, si sta, si sta. Ci è piaciuto. Molto simpatico. Guarda una macchina nuova. Eh, pulisci quella vecchia. Sembra la nuova. Secondo me un catorzo viene fuori. Vediamo. Sì. Ce l'abbiamo fatta. E dice, aspetta. Io comunque sto vedendo che il tuo cervello, Reby, sta crescendo. E sono contento. Penseranno non sia bello, ma non lo pensano più se lì divoro il cervello. Sì, sì, è un po' più grande. In realtà guardo, ho messo il cappello perché non ci sta il mio cervello. È troppo grande. Non ci sta qua sotto, capito? Va bene. Allora. Allora, vai, andiamo avanti. Chi è il traditore? Non mi copiare. Allora. Toccate il naso che porta fortuna. Guarda, allora, lei sa il zuccio e il biberon. E quindi, vabbè. E lei invece sa un cuscino. No. Hai visto che sa un cuscino? L'ho visto. Basta. No, no. Tocca a me. Ha mancato un sacco di volte. Adesso gioco fino alla fine. Cosa farà? No. Si allazza le scarpe. Si allazza le scarpe. E perché tu lo sapevi già? Perché è pieno di sti video. Perché no. Perché tutti gli uomini fanno queste cose. Guarda, lei c'è rimasta malissima. A Parisi poi. Guarda, metti quella. Ma metti quella. No, io voglio la gomma a pinguino. Cioè, guarda, c'è la gomma a pinguino. Eh, ma bisogna guardare la pubblicità. No, non è vero. Non serve. Guarda, si sbloccano i livelli. La gomma avocado. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Forza, forza. Uh, è qua. Niente, vabbè. Vai. Cosa c'è dentro lo specchio? E' Max! No! Bella! Questa è bella. Questa mi piace. Lui sogna di essere un leone. Oh, guarda che carino. Trova il pulcino. Coccone, coccone! No! Ma c'era no! È un draghetto! Ma c'era un draghetto! Il draghetto dove lo metto il povero piccolo... Vabbè, niente. Vabbè, tocca a me, dai. No, 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 no. No, Reby, hai già fatto un video. Prova un po' manoro. Secondo me è lui. È lei, eh. È lei. No, devi cancellare le nuove. È lui. Lui diventa... Lei! È lei. Come facevi a sapere... Dammi... Oh! Ma c'è quel quadra che non cosa. Qualcuno ha già giocato a questo gioco? Io non ho giocato. È che sto diventando troppo intelligente. Dammi quel cellulare! Non ho dubbio, io faccio un altro livello. Chi è davvero? Una sirena. Una sirena. Scommettiamo. No, tu devi... È un granchio. Una sirena. Un granchio. Cosa vinco? Un gelato. Sì, vabbè, dai. È una sirena! Dai, basta. Hai fatto serissime volte. In fondo al mar. Si, va bene! Sbarassati dei telefoni. Oh, sbarassiamoci dei telefoni. Fatto. Ho vinto il gioco e ho vinto io. Bello, sono le cover con le loro facce. No! e adesso via no ma che è via tutti e due i telefoni vediamo un po ma che cosa facciamo questa faccia non fate screenshot a questo pezzo del video trova la ragazza ragazza pizza ragazza pizza ma cosa si fa qua lo sto mangiando ma che è ma sta dormendo nel letto pizza no è il letto pizza mi compri un letto pizza se ti comporti bene sarebbe bellissimo avere un letto pizza con la coperta pizza e mangiare la pizza lì sopra sul letto di pizza allora livello 20 pulisci lo specchio ecco adesso è specchio specchio che è sporco ecco qua bravo molly bellissimo no ti hai fatto un sacco trova la mamma urso no è qua sotto si yes strano non l'avrei mai detto yes tocca la rebecchina cosa c'è che non va qui è una sirena direi che è una piccola sirenetta no no what è volato via ma cos'è non hai nemmeno capito cosa è successo c'era un aereo e io l'ho cancellato tutto si però così il tuo cervello non si ingrandisce devi capire quello che fai allora adesso capiamo nooo ha le zampe lunghe no ha troppo pelo troppo pelo non so forse anche le zampe lunghe e secondo me qui sotto c'è una giraffa vai ha le zampe nooo i trampoli a dove si trampoliano il cane eh ma perchè è un bassotto si si va bene basta cosa non va qui eh c'è il fidanzato che è dietro sei sicuro eh si pure un uomo è pure pelato ma cosa c'entra che pelato eh c'entra che lei aveva i capelli lunghi biondi scoglierà cosa c'entra una nuova gomma nuova gomma nuova gomma nuova gomma nuova gomma bellissima vediamo un po' prova a cancellare con la nuova gomma siiii bella guarda che carino una giraffina ok dai faccio io no dai un altro con la gomma nuova gomma 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 trova i suoi figli ma sono lì guardami che carini stanno guardando il computer buono dai faccio io rabbia e molli ma come rabbia e molli erano tutti liberati potresti essere mio fratello dove sono i soldi nooo per fortuna no eh no per fortuna no altrimenti si hanno qua dentro i soldi mi prende la testa forse il cervello non ci sta più comunque se fossi tua sorella ti farei un sacco di rispetti e poi quando te ti ribelli mamma si infatti non vorrei avverti eh allora cancelli i capelli guarda il camaleonte se era un camaleonte allora ragazzi direi che per questo video è tutto siamo riusciti ad ingrandire i nostri cervelli specialmente quello della rabbi perchè non si trovava più da noi e tutti ci vediamo al prossimo video ciao ciao